Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico della LUIS a Roma e ha richiamato l'Alexio Magistralis di Jhumpa Lairi, traduttrice e scrittrice di origine indiana e vincitrice di un premio Pulitzer. Dal titolo Elogio all'Eco, una riflessione sul senso del tradurre. E' un insegnamento anche per i nostri tempi in cui emergono tentazioni di chiusura in se stessi per individui, per gruppi sociali, per realtà nazionali e che richiedono una riflessione adeguata storicamente all'altezza del momento in tutti i paesi. Mattarella ha poi sottolineato l'importanza e il ruolo dell'università. La capacità di avere attenzione e di comprendere la realtà, che vuol dire, tradotta in concreto, capacità di studio, di approfondimento, di rifugia dall'approssimazione, dall'improvvisazione, elementi di cui il nostro paese studio, approfondimento, capacità di esaminare le questioni nella loro realtà a grande bisogno.